Il tecnificio che hanno fatto i venditi dovesse essere, forse dovesse essere stato, forse fosse stato, lo devo dire con il condizionale giusto. Mi manca la grammatica e la sintassi, voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Poi, fosse stato, forse dovesse essere stato, gli occhi ridetti e fuggiti, mi mancano niente casino. Poi, fosse, forse, forse, forse dovesse essere stato, giusto, lo devo dire con il condizionale giusto. Poi ricordo, è stato, c'è anche a pieno altro video. Po se dovesse essere stato. Lo devo dire con il condizionale giusto. Po se dovesse essere stato, irolly, ok, posso, mi manca la grammatica e la sintassi. asisi tuke pentzi sani quasi nato live